La discussione è stata ricchissima che ha raggiunto alcuni obiettivi importanti. Prima di tutto la condivisione dell'impianto fondamentale della riforma, la delimitazione delle aree dove permangono delle differenze di vedute, di opinioni. L'impegno, e questo è molto importante, è l'impegno ad adoperarsi con i capigruppo a dare priorità assoluta in Parlamento per l'approvazione della riforma in tempo utile per l'elezione del prossimo Consiglio Superiore della Magistratura. E la consapevolezza della necessità di un pieno coinvolgimento delle forze politiche insieme al rispetto dei tempi è stata un'altra caratteristica condivisa. Quindi niente tentativi di imporre la fiducia così. Ci vuole un accordo, ci vuole condivisione, è un provvedimento di portata tale che necessita di questa apertura.